Giovanni D'Apozzo, Presidente della Camera di Commercio di Udine, questa giultima giornata dell'intensissimo Future Forum 2016, un bilancio di com'è andata? Beh, bilancio molto positivo, c'è stata una qualità degli interventi, dei temi trattati molto elevata, ma soprattutto abbiamo visto che gli imprenditori, la cittadinanza, il mondo della cultura, hanno partecipato in modo molto importante a tutti gli eventi, stasera abbiamo l'evento Clue con Bauman, dove c'è un interesse, un'attesa veramente molto significativa, quindi direi che questa edizione di Future Forum ha avuto un successo, questo ci fa molto piacere, abbiamo centrato l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Quali sono le parole chiave con le quali Giovanni D'Apozzo chiude questa edizione, le parole chiave per il futuro? Le parole chiave adesso le andremo a scoprire attraverso una sintesi di tutti gli interventi, se lei mi chiede a me qual è la parola chiave bisogna abbinare lo scenario, che chiaramente è rivolto a una prospettiva verso il futuro, ma con un ottimismo, anche se in questo momento molte volte è difficile essere ottimisti. Se noi non riusciamo ad abbinare queste due componenti diventa tutto abbastanza complicato.